allora sta piovendo quindi facciamo un prezzo se non ci bagniamo questo ecco risposta all'ice bucket di gianluca solo perché ci ha detto gianluca perché se ce l'avessi fatto qualcun altro non l'avremmo fatto la mia donazione è già stata fatta il numero lo troverete giù anzi la mia è di ecco solo che ecco non c'ha soldi quindi la devo fare io ecco qua qua c'è vedete la bacinella con il ghiaccio dentro difficilissimo trovare il ghiaccio in questa stagione ecco prima di iniziare dimmi dammi le nomination chi dobbiamo sfidare sì ok il delfino ha nominato alessandro perlini quindi zio perla preparati alberto gigli detto anche max power o massimo potenza e infine michele elias quindi preparati michele ora tocca a te ice bucket di ecco the dolphin ecco qua le nostre donazioni sono state fatte mi raccomando ecco bello intuppato intuppiamolo ancora un po le nostre le nostre donazioni sono state fatte fate anche la vostra e niente ci vediamo alla prossima